Benvenuti cari follower. Un forte e veloce temporale si abbatterà sull'Italia a partire dalla tarda notte di giovedì 9 novembre e proseguirà fino alla sera di venerdì 10 novembre 2023. Il temporale sarà più forte e violento dalla mezzanotte di giovedì fino all'alba di venerdì e inizierà prima al nord per poi estendersi al centro. E al sud con piogge e nevicate molto forti sull'alto piano alpino e rischio di allagamenti soprattutto sulle coste del Martireno e fino alla Liguria, alla Toscana e all'estremo nord-est dell'Italia. Quindi a partire dalla sera delle 17 fino a venerdì sera 10 novembre, pioggia e maltempo in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Sardegna Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia. Ricordiamo ancora che il temporale inizierà al nord, poi al centro, poi al sud e durerà solo circa 24 ore con nevicate sugli altipiani di Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Cercheremo di informarvi in seguito su eventuali altre novità importanti e, alla fine, possiate rimanere in buona salute.